Ciao, buongiorno, la tua azienda insieme a te è sopravvissuta alle ultime crisi, a tutte le crisi che si sono succedute negli ultimi anni e sei ancora qui. Ora stai capendo dal profondo che è importantissimo portare la tua azienda online perché altrimenti rischi veramente di perdere fette di mercato. Mi chiamo Tito Maianti, sono un social media manager professionista che si occupa proprio di digitalizzazione aziendale e ti faccio i miei complimenti perché portare la tua azienda online è la più grande scelta che puoi fare oggi. È un passo davvero importante e ti rifaccio i miei complimenti. Se decidi di fare questo grande passo devi farlo con il giusto atteggiamento mentale, come dicono gli anglosassoni, con il giusto mindset, con il giusto settaggio mentale. Devi avere un obiettivo, le potenzialità dell'online sono veramente importanti. Bisogna partire con l'obiettivo che la produzione che arriverà dall'online deve diventare superiore a quella che ti arriva dalla normale attività offline che hai avuto fino ad oggi. Per fare questo devi dare impulso e forza al tuo reparto di marketing, anche se sei una piccolissima realtà, e andare tra virgolette ad assumere e contrattualizzare un social media manager professionista. Il social media manager professionista, ti do un input importantissimo, facci caso quando lo sceglierai, non inizia a pubblicare immediatamente, ma prima di tutto si avvicina alla tua realtà aziendale e la studia. La studia approfonditamente, viene a conoscere veramente il vostro reale mercato e viene ad identificare, guarda che questo è importantissimo, qual è il vostro cliente più importante. Viene ad identificare il cosiddetto avatar, ok? Vale a dire la buyer persona che è quel cliente medio e con medio non intendo, ok? Meno importante dei certi picchi di clienti, ma quel cliente che è il cliente a percentuale più importante tra la tua schiera di clienti. Quello che rappresenta di più la tua clientela è il cliente che ti permette anche di marginare di più. Lo studio della buyer persona ti permetterà anche di comunicare online proprio con questa tipologia di clienti per attirarli ad acquistare nel tuo negozio, nel tuo studio, nel tuo ristorante, nella tua attività. Quindi prima c'è uno studio approfondito che il social media manager professionista fa, lo mette su carta e studia la tua attuale posizione, chiamiamolo punto A ed insieme a te, insieme a te, perché devi collaborare col social media manager e non remare contro di lui, perché ti potrà veramente aiutare tanto e dare forte impulso alla tua attività. Insieme andrete a decidere una strategia per arrivare a un punto B che sarà il momento nel quale l'attività online andrà in maniera diretta o indiretta, non sto a spiegarti questo concetto, a fatturare di più della tua attuale attività. Quindi il lavoro del social media manager professionista non può essere un lavoro a breve termine, non può essere un lavoro a ghigliottina, nel senso ti do un mese per darmi risultati che è anche possibile, ma devi mettere un pochino di mano al portafoglio. Per cui le strategie saranno davvero molto diverse da azienda ad azienda, da attività ad attività. E cosa fa il social media manager professionista? Vede, parlando adesso più specificatamente del tuo online, che cosa hai a disposizione? Hai un sito o non hai un sito? Sappi che il sito è il cuore della transazione. È qui veramente che puoi fare in modo che le tue persone, la tua buyer persona, i tuoi clienti che si sono sentiti in risonanza con le tue offerte, possono veramente venire a convertire, ma non solo in maniera economica col denaro, ma anche a lasciarti i dati perché hai dato loro un frontend gratuito. Lo so che è abbastanza complicato quello che ti sto dicendo, però ti faccio una domanda e ti voglio chiarire questo concetto. Se tu hai come ristorante 1500 email che vanno vicino ai 1500 clienti della tua clientela, puoi fare offerte per attirarli durante metà settimana. Ecco, avere un importante lista nomi dei tuoi clienti nuovi, meno nuovi, i più abituati ad acquistare da te, può permettere davvero di fare il salto di qualità. E qui esiste, per il social media manager professionista, quello che viene chiamato local marketing, per fare in modo che tu vada, tra virgolette, a strappare, e sono letteralmente da strappare, fette di mercato sempre più grandi alla tua concorrenza. Dunque, eravamo al hai un sito o non hai un sito, dovrai averlo. Mettetelo negli investimenti a medio, lungo, medio termine, ma il sito amico mio ci vuole. Il sito deve avere una caratteristica davvero importante, deve essere un sito ad alta conversione, vale a dire ad alta percentuale di persone che ti lasciano i dati o ad alta percentuale di persone che acquistano da te. Non scendo più in profondità perché voglio mantenere questo video leggero. Il tuo social media manager professionista va a studiare anche i post, se hai Facebook, se hai Instagram, se hai YouTube, i video che hai pubblicato fino adesso su LinkedIn, su Pinterest, ok? E va, primo passo di solito si vanno a ripulire i social da tutto ciò che di sbagliato hai pubblicato nel passato, ok? È importantissimo. Mentre si vanno a creare, si va a creare un vero e proprio calendario editoriale per andare ad esaltare, andare ad esaltare l'interazione col tuo pubblico di riferimento. Chi parte prima, chi parte dopo, ok? Prendi in considerazione anche di ricorrere alla pubblicità a pagamento online. Ci ne sono vari tipi e non è lo scopo di questo video andare a parlare di queste concettualità. Ma il social media manager professionista quando ha capito insieme a te, ripeto, che la strategia sta funzionando e datevi tempo perché le cose non funzionano dall'odio, oggi al domani, ok? Quando ha capito che la strategia sta funzionando potrebbe spingerti, dico potrebbe preparati, spingerti a mettere mano al portafoglio e a fare pubblicità online. E anche qui bisognerà testare quale piattaforma funziona meglio per il tuo caso specifico. A questo punto, se le cose iniziano a funzionare, è facile aprire il rubinetto e fare in modo che il tuo online funzioni veramente sempre sempre meglio. Continua a pubblicare anche in organico perché le persone che ti intercettano tramite la pubblicità, e ne puoi intercettare davvero tante, ok? Perché poi vanno a vedere il tuo Facebook e devono trovarlo ordinato. Ecco perché pubblicare e tenere tutto in ordine. Vanno a vedere il tuo Instagram, vanno a vedere il tuo YouTube e vanno a vedere il tuo sito. Devi avere un sito. Fallo fare da dove vuoi, ok? Non farlo da me, anche se io te lo farei molto bene. Non farlo da me, ma veramente prendi in considerazione di fare un sito e che questo sito sia ben studiato, con delle immagini di alta qualità, con un copy, lo scrivere per vendere, che chiarisca e che dialoghi bene con le persone che atterrano al tuo sito e che mantenga delle percentuali importanti di conversione per il tuo fatturato. Ecco quello che andrai a fare insieme al tuo Social Media Manager. Per riassumere, il Social Media Manager che lavora bene e che tu riconoscerai, veramente, perché la vedi la professionalità, non c'è niente da fare. Per quanto riguarda il marketing, un consiglio, non scegliere chi ti fa pagare di meno, ma chi dopo lo studio iniziale decide insieme a te un obiettivo di fatturato entro un certo tempo, ok? Pagherai il Social Media Manager per questo studio approfondito, ok? Perché se lo merita. Pagherai il Social Media Social Media Manager per l'identificazione della tua buyer persona e insieme deciderete magari anche una percentuale sui risultati. E te lo ripeto per l'ultima volta e poi ti saluto, date tempo, ci vuole. Ritorniamo alla natura anche se stiamo lavorando online. Qui in Lombardia il frumento si semina ottobre 90 e si raccoglie. A giugno ci vuole tempo. La pizza migliore, parlo a te ristoratore, i muscoli migliori non si ottengono dall'oggi al domani, parlo a te palestra. Anche nel lavoro ben fatto di un Social Media Manager che si mette alleato il titolare di un'azienda, di una partita eva per ottenere risultati importanti, della sana lievitazione per regalarti la torta perfetta. Ciao e grazie di avermi ascoltato.